Questa unità didattica è la prima di tre che saranno dedicate all'apprendimento. Il modo in cui affronteremo questo argomento centrale nell'intelligenza artificiale è sicuramente superficiale, però spero di poter dare le idee essenziali di un argomento che è centrale nell'intelligenza artificiale, su cui è stato scritto tantissimo, convegni specifici ancora adesso. Dunque, perché è importante l'apprendimento? Perché questa capacità cognitiva è fondamentale negli agenti intelligenti, perché è importante poter apprendere conoscenza dall'esperienza, per poter migliorare le proprie conoscenze e poter soprattutto interagire anche con un mondo che è in evoluzione. Quindi, l'idea fondamentale è, credo di aver già parlato in una precedente unità didattica, è quella che da una serie di osservazioni di fatti nel mondo, l'agente intelligente deve imparare delle semplici regole per mettere in correlazione i fatti, in realtà è da poter successivamente, in presenza di certi fatti di cui ha già avuto una qualche esperienza in passato, poter anticipare alcune conclusioni che possono essere, per esempio, delle previsioni di cose che potranno accadere successivamente, sulle basse dei quali poi poter prendere delle decisioni e delle decisioni prese a ragione veduta. Quindi, sostanzialmente, noi vedremo un approccio all'apprendimento che sostanzialmente ricalca quello che abbiamo precedentemente definito come ragionamento induttivo. Dalla regolarità dell'acquisistenza di certe proprietà supporre che esista una qualche forma di correlazione fra dette proprietà. Quindi, quello che vogliamo fare è apprendere, quindi dall'esperienza o dall'asservazione, per migliorare le proprie prestazioni, quindi quello che dobbiamo fare è comprendere le regole che, per così dire, governano il mondo, osservando e creando una rappresentazione in formule di queste regole. Perché farlo? Perché il programmatore che programma l'agente intelligente potrebbe non conoscere tutte le situazioni in cui il software si troverà ad agire, quindi abbiamo sostanzialmente che il software in questione è un software che modifica se stesso con esperienza e, effettivamente, è un software che, a distanza di molto tempo, diciamo così, rispetto a quando era stato rilasciato, sostanzialmente potrebbe avere un comportamento molto diverso. Un software che apprende, un software che ha lo stesso input, non produce successivamente esattamente lo stesso output, appunto perché l'input che ha avuto in passato ha modificato il software stesso. Il software non è più lo stesso, esattamente come gli agenti intelligenti dopo che hanno appreso mutano se stessi, mutano la propria base cognitiva, mutano il modo in cui reagiscono anche agli stimoli che vengono dal mondo esterno. Il programmatore potrebbe, quindi, non conoscere le situazioni dove si potrebbe venire a trovare il suo software, non poter prevedere i cambiamenti del mondo, che in un altro modo deve dire la stessa cosa, oppure addirittura non avere una minima consapevolezza di quella che dovrebbe essere la conoscenza che la gente dovrebbe manifestare, dovrebbe possedere il potere di interagire in quel mondo. La competenza che è saper fare, che presuppone, secondo me, delle conoscenze, perché io vedo sempre che la conoscenza precede in qualche maniera l'azione, quindi la competenza deve eseguire la conoscenza. Quindi, quali competenze dovrà apprendere, le competenze... Quindi, sostanzialmente, quello che dovrà fare, credo che il concetto più importante, che qui ricordo, è quello di apprendere una qualche funzione anche di utilità, che dovrebbe guidarlo a compiere le azioni migliori, a seconda di quelli che sono gli stimoli che gli provengono dal mondo esterno. Che tipo di rappresentazione del mondo mettiamo in campo? Questo sarà un argomento che affronteremo in parte, approfondiremo nel prossimo modulo didattico. Qui parleremo quindi anche delle reti semantiche nel prossimo modulo didattico. Qui supponiamo che la rappresentazione della conoscenza la facciamo con la logica del primo ordine, che è un approccio più generico, più generale di quello delle reti semantiche. E quindi, come abbiamo già detto, quello che abbiamo in mente è una forma di apprendimento induttivo, in cui sostanzialmente si tratta di apprendere le regole delle regole di formule del primo ordine. Concettualmente abbiamo tre, spesso si distinguono tre forme di apprendimento. L'apprendimento supervisionato con maestro, che è il terzo che vedete lì nel punto. L'apprendimento non supervisionato, o l'apprendimento con rinforzo. Dunque, in realtà, questi tre concetti non sono una partizione concettuale, ma un agente intelligente può avere anche un mix di queste capacità di apprendimento. L'apprendimento non supervisionato è quello che potrebbe fare, per esempio, un agente intelligente in un mondo senza un maestro. Quindi, per esempio, un mogli, che si trova a crescere nella giungla, deve imparare a capire quali sono gli animali che appartengono alla teoria degli animali pericolosi, quelli che invece sono amici, quali sono le cose che si possono mangiare, quelle che non si possono mangiare. E questo senza un maestro lo deve imparare dall'esperienza, cercando di raggruppare nella stessa categoria degli elementi che lui è in grado di percepire intorno a sé, che hanno delle caratteristiche simili. Questo modo di raccruppare entità simili alla percezione in gruppi di similitudini viene detto dall'inglese clustering ed è una forma di apprendimento nel quale sono molto dotate, in questo momento molto performanti, le reti neuronali, soprattutto le convolutional neural networks. L'apprendimento con rinforzo emula quello che potrebbe succedere a un agente intelligente il quale impara ad associare le risposte giuste agli stimoli incorporando un meccanismo che migliora le associazioni che hanno portato a dare delle risposte a certi stimoli corrette e invece penalizza le relazioni che hanno in passato portato a delle decisioni sbagliate. questo è anche un altro meccanismo che è utilizzato dalle reti neurali Una forma di questo tipo di reinforcement learning è la backpropagation che si usa nelle reti neurali. Noi in questo modulo didattico, in tutte e tre le unità didattiche, ci concentreremo sulla forma di apprendimento più semplice per certi versi, comunque più vicina all'approccio logico, logicista che abbiamo avuto in tutto questo corso che è l'apprendimento supervisionato in cui si suppone che c'è un maestro che già possiede la conoscenza quindi ha certi stimoli, dà le risposte giuste e il nostro agente è un agente che si pone nei confronti di questo maestro come un discente il quale non riceve una comunicazione diretta circa la conoscenza che è utilizzata dal maestro nel prendere le sue decisioni ma osservando le decisioni del maestro si cerca di fare un'idea di quelle che sono le regole nascoste non comunicate che il maestro sta seguendo. Cioè, in pratica, il nostro agente che cosa fa? Osserva continuamente una successione di coppie input-output cioè alfa-beta e deve cercare di capire se c'è una relazione che da alfa implica beta o che da beta implica alfa a seconda di quello che è visto come l'input e quello che è visto come l'output e quindi sarà un po' questo quello che adesso vedremo nelle successive due saranno esempi di apprendimento supervisionato quelle che vedremo nelle successive due unità didattiche. l'apprendimento supervisionato da me è un training set che sarebbe un insieme di coppie input-output che non necessariamente sono numeri perché in generale perché in generale noi vedremo che ci appoggeremo a input-output che sono costituiti da da percezioni che sono rappresentate in forma di formule del primo ordine negli esempi che vedremo nelle successive unità didattiche ma in generale il concetto è molto generico perché fa riferimento a una generica funzione h che anzi scusa f che è la funzione la funzione f di x quella che il maestro segue nel associare a un certo input un certo output ha una certa percezione fa associa al maestro una certa risposta questa funzione f è ignota al discente il discente la deve in qualche maniera scoprire la deve approssimare come se fosse un gioco di apprendimento e quindi il discente si fa nella sua mente in qualche maniera un'ipotesi h sta per ipothesis una funzione ipotetica che in qualche maniera dovrebbe corrispondere alla f ignota la f è quella del maestro che ha prodotto questa sequenza di coppie e il discente la deve in qualche maniera approssimare questo h minuscolo deve far parte di uno spazio di possibili ipotesi che come i predicati abducibili che abbiamo visto nella diagnosi questo spazio dell'ipotesi deve essere una specie di un repository che è a disposizione del discente dal quale può attingere le funzioni h che deve utilizzare per poter ipotizzare in qualche maniera di approssimare qual è la f ignota quindi c'è una f ignota che ha prodotto queste sequenze di coppie input-output l'h la deve approssimare quindi il training set è l'insieme di coppie che sono state prodotte dal maestro da questo insieme di coppie il discente tira fuori un'ipotesi h dopodiché questa ipotesi verrà messa alla prova e cioè ci sarà successivamente un test set cioè un insieme di una sequenza di input quindi di x che saranno utilizzate per testare l'h il discente darà la funzione il valore y corrispondente a quell'h che gli è stato dato in base alla sua h e si andrà a vedere se questo valore y corrisponderà a quello della funzione ignota è chiaro che su questo su questo impianto noi potremmo anche mettere su una una forma di reinforcement learning perché se la y prodotta da h non corrisponde al vero un po' come nella battaglia navale gli si può rispondere giusto sbagliato e e e e quindi a questo punto il test set entrerebbe gradualmente a far parte anche del training set ma vedremo questo concetto meglio nella terza unità didattica vedremo anche meglio come come concepire un training set e una coppia training set test set la funzione f ignota può essere di varia natura per esempio potrebbe essere una funzione casuale per esempio cioè casuale fino a certo casuale una funzione che corrisponde a una distribuzione di probabilità ignota e l'h dovrebbe capire qual è la distribuzione di probabilità che ha prodotto quegli esempi oppure potrebbe essere più in generale una funzione numerica e anche qui abbiamo una forma di apprendimento che si definisce regressione che non prenderemo in considerazione in questo modulo didattico più vicino a noi diciamo più in linea con quello che è il taglio di questo corso la funzione in questione potrebbe essere una funzione numerativa che in cui abbiamo sostanzialmente che le x e le y sono sotto insieme di una base di Erbrand cioè spaziano nella base di Erbrand sia la x che la y e quindi come vedremo sono formule sostanzialmente formule ground dalle formule ground per esempio non so xa y a yb bisogna riuscire a tirar fuori la formula qualunque una formula della serie qualunque sia x quando è vero x di a e vero y di b cose di questo genere e questa il prodotto dell'apprendimento lo vedremo nella prossima nel prossimo modulo didattico sarà sostanzialmente una forma di classificazione una classificazione cioè una categorizzazione e sarà chiaro quindi nel prossimo nel prossimo modulo didattico come effettivamente è importante l'apprendimento perché proprio dall'apprendimento che nasce nell'agente intelligente la capacità di poter derivare le proprietà delle proprietà degli oggetti del mondo che è intorno a lui sulla base del quale poi esibire un comportamento intelligente successivamente che lo rende capace di fare successivamente delle deduzioni sulla base della classificazione della categorizzazione che ha preso o anche nel caso che per esempio ha preso un'arte medica per esempio poter fare in base sempre a quella classificazione che ha preso delle diagnosi insomma stiamo parlando di un momento centrale nella vita chiamiamola così di un agente intelligente artificiale che è il momento in cui lui acquisisce la conoscenza del mondo teniamo presente che noi dobbiamo realizzare artefatti nell'intelligenza artificiale che ci sopravviveranno che saranno in grado anche di relazionarsi con un mondo a noi umani di oggi sconosciuto e quindi dovranno essere in grado esattamente come siamo stati in grado noi esseri umani di poter apprendere il mondo in cui dovranno vivere negli anni a venire e questo lo dovranno fare in maniera autonoma ora anche nella c'è un principio di razionalità che somiglia al rasoio di Ockham che abbiamo visto nel caso della diagnosi c'è una certa opzione preferenziale per la semplicità cerchiamo di capire in che senso abbiamo quindi uno spazio polinomiale ipotizziamo chiedo scusa di avere uno spazio polinomiale dove poter attingere delle funzioni che ci servono per per poter ipotizzare quale sia la funzione f ignota che ha prodotto una certa sequenza di campionamenti intanto per capirci che sarebbero quei puntini che vedete lì rappresentati in questi diagrammi supponiamo di avere per esempio questi sette campioni che abbiamo qui nel primo diagramma di sinistra sono tutti allineati possiamo fare due ipotesi o che siano stati prodotti da una f lineare o che siano stati prodotti da una f di una funzione polinomiale di ordine sette come quella rappresentata nel diagramma a e nel diagramma di b nel diagramma b e per un motivo che sarà forse più chiaro fra un attimo però penso che sia ben intuibile che corrisponde di nuovo al principio del rasoio di Ockham se non abbiamo nessun motivo per ipotizzare che la funzione incognita abbia fatto questo picco strano qua su non lo facciamo questa ipotesi non la facciamo e quindi è abbastanza intuibile che è preferibile la spiegazione più semplice l'ipotesi lineare però a volte possiamo il discente può trovarsi in una posizione di imbarazzo perché guardiamo il diagramma in figura in figura c abbiamo di nuovo qui sette punti che per poterli cogliere in maniera perfetta dobbiamo ipotizzare una una funzione polinomiale per esempio in questo esempio di grado 6 e questa è necessaria perché se non la ipotizziamo di grado 6 non siamo in grado di poter corrispondere in maniera precisa al training set che ci è stato fornito solo che sempre dal training set si può notare che c'è una ipotesi h minuscolo lineare che non li coglie nessuno o quasi nessuno uno solo ne coglie perfettamente di questi esempi nel training set però è una buona interpolazione di tutti quanti allora qui nasce nel discente un problema che ce lo portiamo anche nel caso dell'apprendimento in tutto l'apprendimento è preferibile una spiegazione semplice che non coglie perfettamente tutto il training set o è meglio una spiegazione complessa che coglie perfettamente tutto il training set beh qui non ci sono delle risposte scontate in realtà i concetti sono abbastanza complessi e andrebbero approfonditi appunto dedicandosi dando molto tempo a questo argomento l'argomento dell'apprendimento molto più di quello che abbiamo riservato noi in questo corso diciamo che intuitivamente quello che si può anche da un punto di vista ingegneristico diciamo dire subito è che la risposta sarà anche affidata a considerazioni che riguardano la precisione della sensoristica in base al quale è stato prodotto il training set perché è chiaro che quello che è stato il training set deriva da una serie di percezioni che sono state fatte mediante sensori che avevano una certa tolleranza una certa approssimazione e se la approssimazione catturata dall'interpolazione è un'approssimazione che corrisponde alla stessa ordine di grandezza dell'approssimazione della tolleranza dei sensori probabilmente a questo punto di nuovo la spiegazione più semplice sarà preferibile cioè è del tutto inutile fare un'ipotesi molto complessa per corrispondere in maniera estremamente precisa a un training set che è stato tirato fuori da un set di percezione sensoriale estremamente grossolano perché la non rispondenza alla linearità a questo punto potrebbe essere frutto di una fluttuazione statistica dovuta semplicemente alla grossolanità dei sensori che avevamo a disposizione quindi se devo dare una come dire un'idea di massima direi che anche in questo caso sarebbe da ritenere preferibile una spiegazione semplice che interpoli bene però gli esempi nel training set però sempre questo stesso esempio qui nel diagramma C è interessante perché ci fa capire che è importante anche l'ipotesi di partenza dello spazio H grande perché se noi ci limitiamo limitiamo lo spazio delle possibili funzioni entro cui andare a pescare quelle che prendiamo come forme di apprendimento le prendiamo come ipotesi che prossimo in qualche maniera la funzione è fignota beh il fatto che ci siamo limitati a definire solo alcune funzioni piuttosto che altre lo possiamo in effetti anche pagare pagare anche in maniera abbastanza grave perché qui vediamo che se diamo per scontato che lo spazio sia polinomiale quindi escludiamo delle funzioni che abbiano delle componenti di trigonometriche per esempio di funzioni trigonometriche facciamo lo paghiamo un po' insomma questa scelta perché se allargavamo il range delle funzioni da cui poter pescare la possibile ipotesi induttiva a anche delle funzioni trigonometriche ci accorgevamo che componendo una funzione lineare come quella che prima approssimava il training set con una funzione trigonometrica andavamo a pescare perfettamente tutto il training set e che è stata tuttosommata una funzione molto semplice e molto più semplice rispetto a una funzione polinomiale di grado 6 e quindi questo sarebbe stata non un ottimo compromesso sarebbe stata sicuramente la spiegazione perfetta perché avrebbe colto perfettamente tutti gli esempi tutte le copie del training set non avrebbe dovuto approssimare niente ed è una funzione semplice perché non l'abbiamo presa nel campo nel caso C perché avevamo limitato lo spazio polinomiale lo spazio delle funzioni allo solo spazio polinomiale dunque questo bias che ci eravamo dati ci ha impedito di trovare quella che era la spiegazione migliore di tutti ma da dove deriva il fatto che c'è un'altra forma di enunciazione del principio del rasoio di Ockham però se ragioniamo un attimo anche con la teoria delle probabilità con il teorema di bias vediamo che forse ne abbiamo di nuovo una comprensione forse anche migliore da un altro punto di vista qui ricordo che un problema di apprendimento è realizzabile ovviamente se la funzione ignota appartiene come dicevo poco fa come ricordavo poco fa allo spazio delle ipotesi cioè è chiaro che se la funzione ignota non corrisponde cioè non appartiene allo spazio delle possibili ipotesi noi quella funzione lì H come la funzione F con un H non la beccheremo mai e se abbiamo proprio il maestro a disposizione lo possiamo sapere ma se il maestro a disposizione non c'è e quindi apprendiamo sostanzialmente la coppia del training set ci è data dall'esperienza non è detto che noi possiamo sapere quale sia la funzione F e quindi questo è un dato di fatto se noi adesso rilasciamo un attimo la definizione di ipotesi e cioè non andiamo a dire quale è giusta e quale è sbagliata noi quindi cerchiamo una funzione H che massimizzi spaziando all'interno dello spazio delle ipotesi che massimizzi la probabilità che quella H sia la risposta giusta alla luce dei dati che provengono dal training set e che questo è il concetto ovviamente che noi prendiamo la spiegazione avendo più spiegazioni possibili prendiamo quelle che non c'è la luce di la luce dette però esattamente è uguale alla probabilità di data condizionato H per la probabilità di H e quindi in pratica noi vogliamo che questa qui sia quella con la probabilità più alta e che significa che è importante che la probabilità dell'ipotesi sia alta è da qui che nasce l'opzione preferenziale per le ipotesi più semplici perché sono le ipotesi più semplici cioè quelle che appaiono più frequentemente nella realtà quelle che natura non facet saltus quindi più sono i salti che vengono fatti e meno è probabile che quella sia la spiegazione che stiamo cercando più è lineare più è dolce più è omogenea l'ipotesi e più sarà più probabile che quella è l'ipotesi giusta e questo è un altro modo tramite il teorema di Bias per spiegare perché preferiamo le ipotesi più semplici perché le ipotesi più semplici sono quelle che hanno la probabilità più alta e avendo la probabilità più alta saranno in grado di massimizzare la probabilità che quella sia l'ipotesi giusta alla luce dei dati osservati comunque faccio anche qui ricordo che un vantaggio un po' empirico e quindi non è bello da dirsi però siamo anche ingegneri e quindi ci concediamo queste osservazioni un po' scientifiche diciamo che a noi piacciono anche le spiegazioni semplici perché poi noi le dovremmo queste queste ipotesi implementare e seguire e quindi se dovremmo implementare una funzione di primo grado una funzione di primo grado composta con una funzione trigonometrica sarà molto più facile fare questo piuttosto che andare a implementare una funzione polinomiale di grado 7 nel senso che in generale questo è un concetto generico molto probabilmente alla fine poi dopo quello che noi abbiamo appreso lo dobbiamo mettere in pratica più ciò che abbiamo appreso sarà semplice le regole che abbiamo appreso saranno semplici più sarà facile metterle in pratica e quindi adesso concludiamo questa unità didattica facendo un produttivo che riprenderemo nella prossima supponiamo quindi per poter cercare di dare una esemplificare quello che abbiamo detto finora supponiamo che dobbiamo imparare a riconoscere i funghi nel senso di distinguere per semplicità in questo esempio solamente funghi che sono buoni da mangiare da commestibili dai funghi velenosi e supponiamo di poter di distinguere i funghi di andarli a catalogare in base a due parametri la larghezza e l'altezza è chiaramente questo è un esempio puramente didattico abbiamo due parametri che utilizziamo per misurare i funghi quindi per distinguere un fungo da un altro la larghezza e l'altezza e abbiamo due classi in cui vogliamo ricondurre tutti gli oggetti fungo che abbiamo raccolto la classe dei funghi velenosi quelli con il meno da la classe dei funghi commestibili allora qui nel diagramma HV abbiamo riportato per ogni coppia HV l'appartenenza del fungo a una classe oppure all'altra e quindi abbiamo questo che abbiamo qui rappresentato il nostro trinset per esempio con questa H e con questa V abbiamo che la Y è commestibile invece con questa H e con questa V la Y è venenosa e così via allora che cosa adesso noi dobbiamo fare noi dobbiamo trovare una funzione H che ci approssimi la funzione ignota che in qualche maniera distingue a seconda dei due parametri che abbiamo utilizzato dei valori dei parametri che abbiamo utilizzato per rappresentare i nostri funghi i funghi venenosi da quelli commestibili e qui abbiamo tre esempi potremmo avere in base al trading set una funzione di questo tipo una funzione che se la larghezza è maggiore di 2 ed è minore di 4 e l'altezza è minore di 2 allora è commestibile altrimenti è velenoso oppure una funzione di questo tipo se h è maggiore di v allora è velenoso altrimenti se h è maggiore di 6 meno v allora è velenoso in tutti gli altri casi è commestibile che sarebbe questa funzione qui oppure possiamo avere per esempio una funzione una conica in questo caso è una parabola se h è minore di 3 meno larghezza meno 3 al quadrato sì allora è commestibile altrimenti è velenoso quindi abbiamo una funzione h viola una funzione h gialla una funzione h azzurra sono tutte spiegazioni possibili e quindi quale sarà quella preferibile c'è un ordinamento di preferibilità fra di loro gli ordinamenti ci possono essere ma non è detto che sono ordinamenti totali potrebbero essere ordinamenti parziali come in questo caso perché 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 se andiamo a sovrapporle le tre funzioni ipotetiche le tre funzioni h vediamo che che quella viola è sotto insieme di entrambe e quindi in qualche maniera se l'obiettivo è quello di avere la certezza di non finire all'ospedale perché finire all'ospedale è peggio è molto peggio che non mangiare un fungo buono allora cerchiamo di avere una funzione che sia il più possibile limitata limitativa rispetto alla definizione della categoria dei funghi commestibili la funzione rosa è preferibile rispetto a entrambe le altre due funzioni ma lo stesso ordinamento che è l'ordinamento di sotto insieme in qualche maniera non può valere non vale per le altre due perché ci sono alcune zone in cui sarebbe preferibile la funzione quella parabolica ci sono altre zone che si sono meno estese in cui invece sarebbe preferibile la funzione triangolare se noi avessimo sapessimo che la probabilità di avere un fungo in qualunque area di questo diagramma cartesiano è uniforme potremmo anche andare a ragionare sulle aree ma se non ce l'abbiamo questa ipotesi che la distribuzione sia uniforme non ha senso ragionare sulle aree perché magari potrebbe essere molto alta la probabilità di trovare un fungo in quest'area qui e quindi non potremmo dire niente circa la preferibilità della gialla sulla blu o della blu sulla gialla insomma ecco perché gli ordinamenti in generale possono essere parziali di preferibilità o di semplicità possono essere parziali ecco va bene allora io adesso chiuderei qui questa unità didattica nella prossima vedremo una prima tecnica di apprendimento apprendimento da training set di regole semplici regole se allora cioè delle implicazioni in pratica come apprendere le implicazioni che poi saranno utilizzate all'interno del ragionamento dell'agente intelligente per ragionare ripeto o per fare delle riduzioni o per fare delle spiegazioni abduttive e nella terza unità didattica vedremo una tecnica simile forse più usata che la tecnica di induzione di alberi di decisione per entrambe le tecniche vedremo come come una applicazione come un esempio un programma prolog grazie